Il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri è intervenuto alla manifestazione nazionale della FIAP a Roma, se riparte l'immobiliare riparte l'Italia, giù le mani dal mattone, e ha sottolineato l'impegno del governo a far ripartire il settore e l'importanza di combattere l'abusivismo tra chi esercita la professione di agente immobiliare. Il provvedimento, come sapete, oggi alla Camera, l'abbiamo seguito come governo al Senato in tutti i passaggi, sapete che il governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento Gasparri, che poi c'era uno simile anche della Stefani, che prevedeva l'abusivismo anche per quanto riguarda gli agenti immobiliari non iscritti regolarmente, non registrati presso le Camere di Commercio. È un tema importante, noi oggi come governo siamo impegnati per quanto riguarda la ripresa economica, vogliamo tutelare la concorrenza, sapete che il Consiglio dei Ministri ha fatto un DL anche proprio per la concorrenza, noi vogliamo attrarre gli investimenti esteri, noi vogliamo far ripartire l'economia e per far ripartire l'economia nel nostro sistema bisogna per forza ripartire dalla casa, ripartire dal mattone, ripartire dall'edilizia e rimuovere. Quindi noi dobbiamo tutelare, intanto ridurre la pressione fiscale sulle case, perché oggi andiamo a vedere quanti sono gli immobili non locati, quanti sono gli immobili anche non solo ad uso abitativo, ma anche a quello non abitativo, che vuol dire capannoni, vuol dire industria, vuol dire piccolo-media impresa e quindi dobbiamo cercare di far ripartire. Detto questo, noi dobbiamo tutelare anche chi esercita la professione con serietà, rispettando le regole, perché questo vuol dire concorrenza, questo vuol dire garantire un giusto equilibrio tra tutti gli operatori, perché è giusto tutelare la libera concorrenza, però non possiamo permettere che ci sia una concorrenza violata dall'abusivismo.